Ciao a tutti quanti, era tantissimo tempo che volevo fare questo video ma non trovavo il tempo per poterlo realizzare. Oggi ho trovato questi 5 minuti per condividere con voi questo video tag. Mettete i tanti pollici in su e iniziamo... Ah scusate, mi sono dimenticata una cosa. Come si fa questo video tag? Da come avete detto già dal titolo avete già capito di che video tag sto parlando. Ma perché non l'abbia capito si chiama tag, domande strane. Dove l'ho trovato? L'ho trovato su internet e ho deciso perché non farlo anche io. Lo voglio condividere con voi e rispondere a queste domande. Iniziamo con la prima. Qual è il soprannome con cui ti chiamo non solo la tua famiglia? Non ho un soprannome, cioè in famiglia mi chiamo tutti Sara. Non ho questo soprannome, ragazzi. Non ce l'ho più con gli amici che sono famiglia. La tua strana abitudine? La mia strana abitudine è quella di guardare spesso il cellulare prima di chi mi scrive. Hai qualche strana fobia? Strana, per strana quasi in tanti io non ho una strana fobia, ma la fobia per i retti di quello sì. Qual è la canzone che ami segretamente e con cui ti scateni a casa da sola? Pare che canzone. Allora, prima di tutto quella canzone con Benji e Fede e Annelisa. Mi piace tantissimo, quindi quando la sento la canto a memoria. Poi Despacito, poi Pamplona di Fabi Fribra, che lo sto molto valutando, come cantante. Completo, chiudo le virgolette. Poi Balli di gruppo, queste cose qua. E il tuo primo veloce? Il mio primo veloce è un cane con il cane con le rughette, ma è carino. Ultima domanda. Qual è la frase e l'affermazione che dici spesso? A volte di 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, che una parte di voi già lo sa che dico 5 minuti. L'affermazione che dico spesso? Che amarezza. Che amarezza. OMG. Ma soprattutto che amarezza. Ultimamente sono in modo che amarezza. Spero che questo video tango vi sia piaciuto. Tango tutti voi a E. E voglio dire, tenete i pollici su. Mi ringrazio e al prossimo video.